Bentornati al nostro canale! Oggi parleremo di 10 snack salutari per accelerare il metabolismo. È importante avere uno stile di vita sano ed equilibrato. E sì, includere deliziosi snack nel tuo regime alimentare rientra in questo. Il primo snack è lo yogurt greco. Ricco di proteine, può aiutarti a sentirsi sazio e a mantenere elevato il tuo metabolismo. I secondi snack sono le mandorle. Ricche di proteine e fibre, queste noccioline possono aiutare a mantenere attivo il tuo metabolismo. Il terzo snack è l'avocado. Questo frutto è ricco di acidi grassi sani che possono aiutare a mantenere il tuo metabolismo attivo. Il quarto snack è il peperoncino. Piccante e gustoso, questo alimento può aiutare a stimolare il tuo metabolismo. Il quinto snack è il tè verde. Questa bevanda è ricca di antiossidanti e può aiutare a mantenere il tuo metabolismo attivo. Il sesto snack è il pompelmo. Questo frutto è ricco di vitamina C e fibre, che possono aiutare a mantenere il tuo metabolismo attivo. Ma fermiamoci un attimo, facciamo prima le prestazioni. La rivista settimanale che ti informa su nutrizione, alimentazione naturale e curiosità culinarie nei borghi d'Italia. Se ancora non sei iscritto al canale ti consigliamo di farlo ora ed attivare la campanellina per rimanere aggiornato sui prossimi video. Ma il consiglio più grande che voglio suggerirti è quello di visitare il nostro sito store. Lo trovi in descrizione. Dove trovi davvero ottime risorse selezionate per te in base a questo video che possono aiutarti per risolvere diverse situazioni importanti. Trovi il sito qui sotto in descrizione e questa settimana puoi accedere a sconti fino al 70%. Ora possiamo continuare con il video. Il settimo snack è l'acqua. Bere acqua può aiutare a mantenere il tuo metabolismo attivo e a rimanere idratato. L'ottavo snack è il cioccolato fondente. Ricco di antiossidanti. Questo alimento può aiutare a mantenere il tuo metabolismo attivo. Il nono snack è il pepe nero. Questa spezia può aiutare a stimolare il tuo metabolismo e aggiungere sapore ai tuoi piatti. L'ultimo snack è il chia. Questi semi sono ricchi di fibre che possono aiutare a mantenere il tuo metabolismo attivo. Ricorda, la chiave per un metabolismo sano è un equilibrio tra una dieta sana e l'esercizio fisico. Non dimenticare di includere questi snack nella tua dieta quotidiana per mantenere il tuo metabolismo attivo. Seguite una dieta equilibrata e fate esercizio fisico regolarmente. Non dimenticate di bere molta acqua. Consultate sempre un medico o un dietista prima di apportare modifiche significative alla vostra dieta. Gli alimenti menzionati in questo video sono solo suggerimenti. Consultate un professionista per una dieta personalizzata. Ricordate, ogni corpo è diverso. Quello che funziona per una persona potrebbe non funzionare per un'altra. Non dimenticate di ascoltare il vostro corpo. Se un cibo non vi fa sentire bene, non forzatevi a mangiarlo. Ricordate, non esiste una soluzione universale per un metabolismo sano. È importante trovare ciò che funziona per voi. Non dimenticate di fare delle pause durante il giorno. Questo può aiutare a mantenere attivo il vostro metabolismo. Ricordate, la chiave è un equilibrio. Non è necessario mangiare solo cibi sani per mantenere il metabolismo attivo. Non dimenticate di godervi il cibo. Alimentarsi in modo sano non significa sacrificare il gusto. Ricordate, la salute è un viaggio, non una destinazione. Prendete il vostro tempo per trovare il ritmo giusto per voi. Grazie per aver guardato questo video. Speriamo che queste informazioni vi siano state utili. Se avete domande, non esitate a lasciarle nei commenti. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per ulteriori consigli su salute e benessere. Grazie per il vostro tempo. Ricordate, la vostra salute è la cosa più importante. Non dimenticate di prendervi cura di voi stessi. Sei la persona più importante della tua vita. Grazie per aver guardato. Ci vediamo nel prossimo video.